ben ritrovati tutti quanti in una puntata del puzzillo del sud chi vi parla è il vostro sempre più coltivatore di orticelli puzzillo e oggi vediamo il tutorial e l'anteprima di seed prima iniziare come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati con tutti i contenuti che usciranno e non dimenticate di attivare la campanella detto questo iniziamo immediatamente seed è un gioco da tavolo competitivo anche se vi è la variante che lo trasforma in un cooperativo da 1 a 4 giocatori dalla durata indicativa di 30 minuti a partita è detto dalla ms edizioni che ringrazio tantissimo mi ha fornito la coppia per potervi fare questo video e l'autore è alessandro cuneo ma di cosa tratta questo gioco beh ognuno deve coltivare il proprio orticello lo fa tramite delle azioni che sono scavare seminare mettere l'acqua far fiorire e infine salvare diciamo raccogliere i semi che serviranno per i punti vittoria la cosa interessante è che il gioco unisce delle meccaniche da puzzle game molto leggero in cui vengono pescate delle carte bisogna agire su spazi specifici però bisogna stare attenti perché alcuni spazi potrebbero essere distrutti da determinate azioni ad esempio se io metto l'acqua su una zona in cui non abbiamo ancora scavato questo non mi frutterà nulla insomma ci sono alcuni elementi interessanti però come al solito non vi voglio anticipare troppo e vediamo il tutorial del gioco vediamo come si prepara una partita per prima cosa ad ogni giocatore viene data una plancia personale la carta riassuntiva delle azioni e la carta riassuntiva dei punteggi fatto questo è il momento di creare la riserva generale formata dai segnalini punti semi da tutti i pezzi azione e infine i segnalini più uno come ultima cosa si prende il mazzetto di carte campo lo si mescola e si lascia coperto vicino ai giocatori fatto questo è tutto pronto per iniziare si id è strutturato in turni durante ogni turno la prima cosa da fare è rivelare la carta in cima al mazzo carte campo e la carta appena rivelata ci fornirà tutte le specifiche di piazzamento per questo turno i turni vengono giocate in simultanea da tutti i giocatori dopo che tutti i giocatori hanno visto la carta che appena stata rivelata devono effettuare un'azione la carta appena rivelata ci mostra gli spazi in cui l'azione avrà luogo sulla nostra plancia personale la carta può essere anche roteata ma vi sono delle limitazioni gli spazi azione devono essere utilizzati tutti e non devono uscire fuori dalla propria plancia personale non si può cambiare la distanza degli spazi per le azioni e non si possono utilizzare meno spazi azioni ad esempio questa carta ci dice che dovremmo fare un'azione su due spazi in quest'ordine quindi non possiamo fare un'azione utilizzando solo uno di questi due spazi o nessuno ovviamente decidiamo noi quali sono i due spazi sulla plancia personale ma non possiamo utilizzarne di meno ogni azione ci fa piazzare dei pezzi e questi devono essere presi dalla riserva generale vediamo adesso velocemente tutte le azioni del gioco e partiamo con scavare con questa azione si prende un pezzo azione grigio e lo si piazza sulla nostra plancia personale secondo le specifiche riportate dalla carta appena rivelata ricordatevi che potete roteare la carta e quindi decidere come piazzare i pezzi se su un'area vi fossero stati altri pezzi questi venivano tolti e rimpiazzati con un pezzo grigio vediamo adesso l'azione seminare con questa azione tutti i pezzi grigi sugli spazi azione della carta appena rivelata diventano pezzi verdi se vi fosse già stato un pezzo verde semplicemente se ne aggiunge un altro se seminiamo spazi con più di un pezzo verde o con pezzi di altri colori che non siano il grigio si rimuovono tutti i pezzi che torno nella riserva generale se seminate su uno spazio vuoto non accade nulla azione irrigare su tutti gli spazi azione della carta appena rivelata trasformiamo tutti i pezzi verdi in pezzi blu altri tipi di pezzi come ad esempio questo pezzo grigio vengono rimessi nella riserva generale su spazi vuoti della propria plancia personale non accade nulla azione raccolto su tutti gli spazi azione della carta appena rivelata si trasformano tutti i pezzi blu in pezzi gialli se vi fossero stati pezzi di altri colori questi vengono tolti e rimessi nella riserva generale su eventuali spazi vuoti non accade nulla infine vi è l'azione depositare sempre sugli spazi azione della carta appena rivelata si prendono tutti i pezzi di colore giallo quindi in questo caso due e poi si prendono punti seme a secondo la carta dei punteggi nel caso di due pezzi gialli si ottengono tre punti seme uno per ogni pezzo giallo più uno mentre nel caso fossero stati cinque pezzi gialli guadagnavamo sette punti seme 5 per i pezzi più due ottenuti i punti i pezzi gialli vengono rimessi alla riserva generale nota se nella riserva generale dovessero finire pezzi di un determinato colore si può aggiungere un segnalino più uno per indicare il numero di pezzi in quello spazi azione sopra la propria plancia giocatore vi è un prospetto di tutto il processo di trasformazione dei pezzi azione i pezzi grigi corrispondono alle pale i pezzi verdi alle piantine i pezzi blu all'acqua e i pezzi gialli al raccolto ricordatevi che quando tutti i giocatori hanno svolto la loro azione contemporaneamente si rivela la prossima carta e la prosegue dopo che è stato effettuato il turno in cui l'ultima carta del mazzo è stata rivelata tutte le carte campo rivelate vengono rimescolate e si forma un nuovo mazzo campo quando tutte le carte vengono rivelate una seconda volta si effettua il turno dell'ultima carta rivelata e poi il gioco finisce finita la partita si passa il conteggio dei punti e si ottengono punti vittoria pari al valore dei propri segnalini semi più eventuali pezzi rimasti sulla nostra plancia personale come specificato sulla carta dei punteggi finale chi ha più punti vittoria vince e dopo questo breve tutorial passiamo alle mie impressioni iniziali sì è un'anteprima perché non so se poi la copia che andrà in retail subirà dalle modifiche sia a livello di componentistica che di regole quindi vi parlo di quello che ho provato io e di cosa ne penso inizialmente allora il gioco a me non è dispiaciuto anzi è molto carino è un gioco davvero leggero è un puzzle game e ci sono delle azioni dobbiamo scegliere e quest'azione avrà effetto su ognuno degli spazi della carta ovviamente questi spazi possono essere spostati insomma non devono essere gli spazi specifici sulla plancia ma non ne possiamo utilizzare di meno non possiamo uscire alla plancia e non possiamo cambiare la forma o le distanze mettiamola così sì le distanze tra gli spazi c'è una lezione di scavare mettere l'acqua seminare raccogliere però alcune di queste azioni vanno in contrasto con altre ad esempio se io scavo non posso poi subito raccogliere perché faccio danni e distruggo quello che ho fatto è molto carino perché bisogna cercare di ottimizzare il tutto ottenendo più punti vittoria prima dello scadere dei due mazzetti sì perché la partita finisce quando i due mazzetti sono stati completamente rivelati due volte sostanzialmente è un mazzetto che una volta finito si rimescola e si ricomincia una seconda volta quindi sono due giri molto carino molto carino però per quei giocatori che cercano qualcosina in più potrebbero interessare le varianti o le mini aggiunte esempio c'è quello delle rocce che è molto più interessante nel gioco un po più punitivo perché ci sono delle pietre e se si utilizzano delle azioni in spazi sbagliati o comunque dove non hanno nulla ci si piazza la pietra e quelli poi sono punti negativi a fine partita oppure c'è il meteo che dopo un tot di carte produce delle risorse extra insomma le varianti sono carine e modificano il gioco a secondo le esigenze per chi preferisce un'esperienza un po più rilassata un po più punitiva più competitiva comunque rimane sempre un gioco che è un multisolitario ognuno veramente si deve vedere il proprio cercare di ottimizzare le mosse allo scadere dei due mazzetti delle due pescate quindi a me non è dispiaciuto ovviamente io come sapete sono un po fuori il target di questo gioco prefisco giochi un po più pesanti però lo consiglio veramente tanto a chi cerca un'esperienza tranquilla se le premesse sono queste uscirà un prodotto davvero ben confezionato carino con un'ambientazione veramente veramente genuina sì lo so che siamo abituati con agricola gestionari che parlano tutte le salse di agricoltura coltivazione però insomma per questo puzzle game ho trovata comunque un'ambientazione molto sentita e carina quindi io la mia ve l'ho detta le mie impressioni iniziali ve le ho dette ditemi invece voi cosa ne pensate fatemi sapere commentate qua sotto vi ricordo inoltre iscrivetevi al canale così rimane ragionati con tutti i contenuti che usciranno e non dimenticate di attivare la campanella detto questo vi ringrazio tantissimo e ci vediamo alla prossima ciao a tutti ben ritrovati tutti quanti in una puntata del puzzio del sud che vi parla il vostro sempre più piantatore di semi puzzillo forse non conviene dirlo perché può scoppiare un bel casino per evitare